Ad Atri si dovranno rifare le elezioni comunali. Il Consiglio di Stato ha cancellato il risultato del voto di maggio 2023 che aveva visto il centrodestra vincere per Giorgio Ferretti e restare sindaco. Il ricorso presentato da alcuni membri della lista Alleanza Civica, l'allora guidata da Alfonso Prosperi, candidato sconfitto di 11 voti, è stato accettato dal massimo organo della giustizia amministrativa. Una sentenza che ribalda totalmente il giudizio di primo grado, che aveva respinto il ricorso al TAR presentato dal candidato sindaco Alfonso Prosperi. Per quanto riguarda il ricorso al Consiglio di Stato siamo stati sei firmatari, di cui soltanto due consiglieri comunali, cioè io, il sottoscritto è Gabriella Liberatore, e poi c'erano altri due candidati consiglieri non eletti, Alessandro Demetrio e la signora Antonelli Innamorati, e poi due liberi cittadini che sono Gianluigi Antonelli e Livio Nespoli. È una sentenza pesante che evidenzia tutta una serie di anomalie rispetto al regolare svolgimento delle attività elettorali. E il dato, diciamo così, importante, per certi aspetti che la dice lunga anche rispetto un po' a tutto il resto, è quello relativo al rinvio da parte del Consiglio di Stato alla Procura della Repubblica di Teramo affinché quest'ultima svolga degli accertamenti relativi ad eventuali responsabilità penali. In municipio si attende la notifica della sentenza con le relative motivazioni e si potrebbe tornare al voto a giugno. Le reazioni non si sono fatte attendere anche da Pier Giorgio Ferretti, che ora dovrà lasciare la guida del Comune. E adesso che cosa succede? Naturalmente la città sarà commissariata, a breve arriverà un commissario di nomina prefettizia, fino al mese di giugno in cui si torneranno nuove elezioni, come stabilito dal Consiglio di Stato. Farò un'esposta alla Procura della Repubblica, già il Consiglio di Stato ha inviato gli atti al sostituto procuratore di Teramo, ma io aggiungerò delle osservazioni proprio perché ritengo che si debba fare chiarezza su tutta una serie di cose, perché da questa vicenda ne esce lesa, oltre che al sottoscritto, e tutti i candidati con me, anche in generale, ogni singolo atriano, a prescindere da dove avesse espresso il consenso. Si aspettava una cosa del genere? No, assolutamente. Questo naturalmente ha lasciato molto sgomento, perché ci sono state delle elezioni democratiche. Io ho vinto, seppur di misura, per soli 11 voti. Il centrosinistra ha perso e questo è il solito vezzo del centrosinistra, di trovare soluzioni alternative a quelle di vincere le elezioni con il voto democratico. Grazie. 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 Grazie.